Il mio nome è Giorgio Agostanzo e la mia opera si intitola Un nuovo volto. L'opera è un omaggio al cammino verso la consapevolezza del sé, è un omaggio quindi alla donna in generale. Una donna incontra se stessa nelle diverse sfaccettature che l'esistenza le ha donato. Sono pezzi di anima che si incastrano perfettamente per creare un'immagine nuova che rinasce, diciamo, subito dopo ogni caduta. La tecnica è una tecnica d'acquarello, è china, quindi una tecnica mista. Sono l'insieme di forme, di linee, sfumature di colore che, diciamo, racchiudono quella che è la realtà, la mia realtà.